Sì, certo, mi chiamo Rino, il viato, ho l'incarico, ha miso il merito, l'ha visto 24 agosto, sono 16 a settembre, abbiamo fatto tutte le scolze con Paolo, non mi piace questa cosa, c'è un mare di cose da fare, abbiamo andato a modificare pure la delibera, per dedicare la cosa che ti mostro, ciao. Ciao, faccio i bambini, tu non sai se hanno fatto il giunto? No, non lo so, su punto, diciamo, io mi arrenno, mi arrennevo, cioè nel senso che, no me la faranno, non ti preoccupare, se non l'hanno fatto oggi la faranno mai in mattina. No, non sono preoccupato da niente, questo mi hanno capito. Un problema ridi, eh, tu, è mio. Tu sai, mi prendi un lavoro, non lo so. Tu hai questi progetti, io te l'ho provato. L'ho provato in cui l'abbiamo provato. Esatto. Ma noi siamo a Poche. Eh, se hanno piattuto da lei, se ci scopre c'è acqua già, già c'è tutto, no? Poi, se ci ha apprezzato una volta, è un progetto definitivo, Luca ha scelto. Ah. Centro, mi ricevi? Io mi ricevo, mi ricevo. Confermo un po' di...